A volte da insegnanti mi rendo conto che si chiede tanto la scuola, a volte troppo, anche i più conservatori dicono ma no, a scuola si va solo per imparare le singole discipline. Non è così, la scuola è un luogo di formazione della persona umana. Il fatto che si chieda tanto la scuola non è solo sintomo magari della carenza di altri centri educativi, ma è anche simbolo, sintomo dell'importanza che ne veste la scuola, perché effettivamente le case sono diverse, le famiglie sono diverse, la scuola è un luogo uguale per tutti, perché magari sono dei ragazzi che a casa o delle ragazze hanno l'opportunità, così come di imparare una lingua o di avere delle ripetizioni, anche magari di affrontare temi psicologici o sessuali. Altri ragazzi invece non hanno questa opportunità. La scuola deve garantire sempre tutto a tutti in modo universalistico. Ciao sono Giulia e ho 19 anni. Ciao sono Matteo e ho 50 anni. Il voto in condotta ha ancora senso? Penso che assolutamente no, soprattutto ora, anche con la nuova riforma Valditara che col 5 direttamente si boccia e col 6 si viene rimandati, penso che abbia ancora meno senso di quel poco senso che aveva prima. Secondo me il voto in condotta andrebbe abolito. La condotta, la condotta di guida, la condotta dentro una caserma, la condotta con la scuola, la formazione delle persone non c'entrerebbe nulla. Se le persone, i ragazzi, commettono dei reati, esiste già il penale, va bene, e dunque ci sarà la legge che interverrà. Siccome la scuola e la società stanno perdendo autorevolezza, quando perdi autorevolezza ti rifugi nell'autoritarismo. Tutte le manovre negli ultimi anni vanno in quella direzione. 5 bocciato, ma 5 perché? 5 perché hai buttato giù l'insegnante alle scale e siamo nel reato. O è 5 perché hai occupato la palestra durante una protesta. Ah, allora è un 5 politico. La mia impressione è che se voglio usare questo 5 come veramente un martello per poter colpire indiscriminatamente tutti i ragazzi, tutte le ragazze che tendenzialmente mi sentono. Allora, vediamo un po' cosa mi tocca, anzi prendo questa. Bellissima. Che cos'è il merito? Ah, il merito a mio avviso è una delle più grandi truffe ideologiche della nostra era. Il merito nasconde le grandi differenze e le ingiustizie della nostra società e si racconta il fatto che tutte le persone, se si vogliono impegnare, possano ottenere un merito e avere successo nella vita. Non è così. Le persone partendo da situazioni nettamente diverse non potranno mai raggiungere gli stessi livelli di merito. Faccio un esempio. È più meritevole chi passa dall'8 al 9 o chi aveva 4, non andava neanche a scuola e arriva al 6 meno. Io penso che sia più meritevole una persona che passa dal 4 al 6 meno. Ma questo 6 meno, come se lo giocherà nella società del mondo delle imprese, delle aziende, dei colloqui, varrà sempre un 6 meno e l'altro che avrà 9 verrà selezionato. È proprio uno strumento che lo Stato utilizza per premiare solo le persone che lo Stato considera meritevoli, che partono quindi da background familiare e economica già avanti. E quindi vorrei proprio ritirare la frase che il merito uccide, fa sentire proprio anche in colpa le persone che non ce la fanno, perché secondo questa ideologia se non ce la fai è solo colpa tua. E anche solo il fatto del voto, cosa significa avere un numero nella valutazione? Il voto numerico è una cosa che assolutamente non rappresenta lo studente medio. Quando potrebbe esserci anche molto migliori, come ad esempio una valutazione scritta da parte del professore allo studente, lo Stato sta usando anche molto questa cosa del merito per giustificare i tagli dei fondi alla cultura. Ad esempio quello che era la 18-up, la carta della cultura, ora i fondi sono stati tagliati e la carta della cultura va soltanto a chi ha un'ISE inferiore a una soglia bassissima e a chi prende 100 all'esame. Cellulare in classe, sì o no? Penso che la risposta sia sì. Non vedo assolutamente il senso nel vietare il telefono in classe. È una dimostrazione che il governo veda lo studente medio come una persona irresponsabile che non sia in grado di autogestirsi. Cellulare in classe, assolutamente sì. È da usare a fini didattici. Quando ci sono delle attività, il cellulare va nello zaino, altrimenti il cellulare si prende e lo si utilizza per navigare, per guardare, per curiosare sulle cose del mondo. E lo si può anche eventualmente usare all'intervallo. Perché lì c'è il loro mondo, gli amici, le relazioni sociali. Uno può dire, vabbè, per quelle sei ore tutto questo si chiude. No, perché la vita è quella cosa lì anche. Sarebbe come dire, entri a scuola, lasci fuori dalla scuola una componente importantissima della vita, a cui gli adulti dedicano tantissimo del loro tempo, ma di colpo in quelle cinque o sei ore va una scena tipo veramente presepe in cui tutti recitano una parte. Anche lì, nel rispetto, ti spiego perché in questo momento non lo dovresti usare. Non non lo usi perché tanto non ce l'hai, perché nella vita ce l'avrai. Devo insegnarti un uso corretto, non a non averlo. È assolutamente vero. Trovo davvero quasi procrita il fatto che all'università si può tenere il telefono per anche soltanto rispondere nei messaggi quando arrivano, rispondere a una chiamata, mentre a 18 anni, quindi un anno prima, in quinta è assolutamente evitato alle superiori. Allora, è il mio turno. Vediamo un po'. Chi ha ragione, i genitori o i prof? Wow! In assoluto non hanno ragione né i genitori né i prof, che la ragione non è un assoluto. A forza di parlare di azienda, grazie cari ministri, alcuni genitori mandano i loro figli in un posto come se loro comprassero qualcosa. Allora io ho il diritto del consumatore, importantissimo, che consiste anche nel mettere in discussione tutto quello che fanno gli insegnanti e voler contrattare su ogni cosa, come sto comprando un pacchetto turistico, un'assicurazione, questo ha delegittimato progressivamente la scuola. Ho conosciuto sia professori estremamente capaci nel loro insegnare, estremamente disponibili ad aiutare lo studente medio, ma anche professori assolutamente incapaci di svolgere il lavoro, assolutamente incapaci di formare le persone, gli studenti, anche assolutamente incapaci di relazionarsi, e quindi che hanno un modo di insegnamento assolutamente non funzionale. E conosco anche i genitori altrettanto terribili. Quindi in realtà per rispondere alla domanda vorrei dare una terza opzione, ovvero che penso che abbia ragione lo studente, nel senso che lo studente debba avere decisionialità nella scuola. Lo studente medio deve poter decidere, deve poter avere un livello di decisionialità nel posto in cui passa la maggior parte del suo tempo, in quanto ora come ora non ce l'ha. Le forme di rappresentanza che sono attualmente a scuola non funzionano, sono quattro rappresentanti che il loro voto non conta nulla, in quanto il voto dei professori e dei genitori è il doppio o il triplo, non mi ricordo ora, degli studenti che sono solo quattro, e quindi al momento non c'è decisionialità. Si può andare a scuola in pantaloncini? Penso, cioè sì, perché mai dovrebbero vietare una cosa del genere, nel senso è una scuola, tutti quanti sono liberi di potersi esprimere come vogliono, penso che vada assolutamente bene andare in pantaloncini, come vada bene andare in gonna, in canottiera, è un luogo pubblico dopo tutto. Ma la domanda è figlia giustamente dei tempi, se arriviamo a dei tempi in cui gli assoluti sono tramontati, abbiamo dovuto fornare delle nuove anche regole per stare insieme. Abbiamo stabilito ad esempio che il pantaloncino e la gonna non offendono nessuno, però chiaramente a scuola non potrà entrare in bichini, non potrà entrare a torso nudo, dunque dei codici ci sono sempre, quei codici più rigidi, assoluti, li abbiamo superati per lasciare le persone maggior libertà. La libertà ovviamente passa per il rispetto altrui. Penso che andare in pantaloncini sia anche quasi essenziale, visto che si muore di freddo a gennaio e si muore di caldo a maggio-giugno, è a volte praticamente essenziale, perché se no si muore di caldo e non si può studiare. Allora, prendiamo. Perché facciamo alternanza scuola-lavoro? La facciamo perché in Italia a un certo punto si è cominciato a dire che la scuola deve servire per preparare il mondo del lavoro. Sino a quando a scuola andavano tendenzialmente i figli o dell'alta borghesia o andavano nel tempo della nobiltà, la scuola serviva per preparare comunque le cose, per poter capire il mondo, per avere degli strumenti anche alti, nobili, di avere una cultura per poter girare e guardare la bellezza del mondo. Poi quando la scuola diventa di massa, a scuola arrivano anche i figli della piccola media borghesia, ma soprattutto i figli del proletariato, delle case sociali subalterne, la scuola deve dare qualcosa di pratico, concreto, insegnarti un lavoro, non insegnarti a pensare, perché poi se tu pensi, magari vai poi in un luogo di lavoro e capisci che quel luogo del lavoro ti stanno sottopagando, malpagando, ti stanno sfruttando, magari quando accendi il telegiornale a tv e vedi un telegiornale, sai pensare e dici, ma questi mi prendono in giro. Dunque la scuola non un luogo di pensiero e poi introduci una cosa interessante, l'idea di lavorare senza essere pagato. L'alternet scuola e lavoro che ho fatto io non c'entrava davvero niente con il mio indirizzo. Penso sia davvero l'ennesimo tentativo dello stato di aziendalizzare le scuole, di avvicinare sempre di più il mondo del lavoro, alla scuola come dicevi, di se mi sentite fare questi mini soldatini che poi andranno subito a lavorare in fabbrica, in ufficio. Tu stai dicendo una cosa ai ragazzi, alle ragazze, guardate, queste altre materie, la storia, la filosofia in prima, la letteratura, non parliamo, nell'arte, non ti danno da mangiare, non servono niente. Io insegno spesso al linguistico e rimango un bacio come alcune ragazze che sono la maggioranza, ma anche ragazzi, vengono al liceo linguistico per imparare delle lingue, ci mancherebbe, ma il liceo linguistico, non è un istituto di lingue. E dunque ci sono le letterature, tedesca, francese, inglese, spagnolo. E molti di questi ragazzi, dicono, ma cosa mi serve? E cosa ti serve? E questo liceo linguistico, è capire la cultura di altri paesi, di altre civiltà. Poi uno può dire, non mi serve nulla, perché io voglio fare l'hostess. E va bene, ma non è questo il percorso che ti stiamo proponendo. Ti dà un percorso per diventare più robusto dal punto di vista culturale complessivo. Però tutto questo sta un po' appassendo. Fa particolarmente ridere i partiti che si autoproclamano difensori della cultura, ma allo stesso tempo promuovono proprie attività per aziendalizzare le scuole, per ridurre al minimo possibile le ore in cui si insegna davvero la cultura, ma mandarle direttamente al lavoro. Condivido, condivido. E beh? A chi spetta il compito di fare educazione sessuale? A me è successo che erano i professori di solito a fare una specie di mia educazione sessuale, anche spesso, molto spesso, non viene proprio fatta. Quindi magari delle persone esperte come o psicologi o persone che proprio trattano robe della sfera dell'educazione sessuale. Tutti sono responsabili di un pezzo di percorso di educazione sessuale. Le famiglie, sicuramente gli insegnanti, gli educatori, però a scuola è importante fare intervenire degli esperti, sempre a quanto riguarda gli aspetti sessuali più legati proprio al rapporto, come funziona, e le eventuali piacevolezze, ma anche le malattie. E poi all'educazione sessuale andrebbe abbinata anche l'educazione all'affettività. L'insegnante non è un tuttologo, deve capire se sono dei problemi, deve eventualmente parlarne con i ragazzi, ma poi servono gli esperti. Tutte volte che l'ho fatta educazione sessuale sei concentrato solo sull'affettività. Dalla scuola stessa io non so niente di per esempio delle malattie infettive. Questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che la scuola considera magari il sesso ancora un po' un tabù, comunque non vuole portare la scuola alla sessualità dentro le aule. Ci sono anche insegnanti o ministri che pensano che questa cosa non appartenga alla sfera dello Stato e dunque non è necessario anzi è sbagliato parlarne. Il fatto che il sesso rimane un tabù per lo Stato e per la scuola penso che sia solamente una cosa da superare e penso che sia anche molto importante includere in questa educazione sessuale la decostruzione del patriarcato che è il male che rimane in questa società. Il male penso che ne rimangano tanti, c'è anche il patriarcato, abbiamo la guerra, abbiamo problemi ambientali, climatici e lo sfruttamento del lavoro. Aggiungerei una cosa parlare di sessualità nella scuola significherebbe però sdoganare un principio del piacere il principio del piacere perché il sesso è piacere e destabilizza e tutto ciò è difficile da gestire allora il potere qualunque sia politico, religioso, culturale vuole tendenzialmente incanalare il principio del piacere. Trovare un equilibrio tra il vivere insieme e anche liberare il principio del piacere è una sfida difficilmente risolvibile però di sicuro non è il patriarcato l'autoritarismo la repressione la via da seguire.